Ciao a tutti ragazzi, oggi non mi trovo nella mia solita postazione a sedice, bensì sono a Forlì. Ciononostante voglio fare comunque una recensione. Stasera parleremo di un film Disney, ovvero Come d'incanto, uscito nel 2007 e con Amy Adams come protagonista. Ma prima di cominciare una cosa importante, qualora non aveste visto il film, non guardatelo in questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto partiamo con la trama. Come d'incanto racconta la storia di Giselle, una principessa del mondo animato, che proprio nel giorno del suo matrimonio cade in un pozzo magico e si ritrova nel nostro mondo, a New York. Lì incontrerà un avvocato di nome Robert e tra di loro nascerà una grande intesa. Ma quando la perfida regina Narissa arriva nel nostro mondo per cercare di uccidere Giselle, il principe Edward, che è il promesso sposo di Giselle, dovrà salvare Giselle e far tornare tutto come la prima. Bene, passata la trama, vi mostro la mia opinione. Allora, vi posso confessare che, come d'incanto, è il mio film Disney più preferito di tutti i tempi. E' il film che nessun altro lo batterà. Perché ha una storia veramente molto, molto ben equilibrata. Le scene cantate sono molto, perfettamente ben coreografate. Il montaggio è ottimo. E ha una musica bella, composta dal grande Alan Menken. E le canzoni sono tutte belle. In conclusione, posso dire che, come d'incanto, è un film che risulta azzeccato in ogni suo aspetto. E sarei un pazzo non consigliarlo alle nuove generazioni di oggi. Mentre per chi ovviamente già lo conoscesse, lo invito a riguardarselo. E niente, io adesso gli do la mia votazione numerica. Il mio voto per come d'incanto è di un 10 su 10. Ma voi fatemi sapere cosa ne pensate di come d'incanto. Se l'avete visto, non l'avete visto. Se vi è piaciuto, se vi ha fatto schifo. Ma penso che sicuramente alcuni di voi l'avranno già visto. Bene. Io spero che questa recensione un po' breve vi sia piaciuta. E noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!